Un auditorium da 180 posti ed un'aula consigliare collegata al vicino palazzo comunale mediante un passaggio pedonale sopraelevato. È quanto prevede il nuovo progetto per la riqualificazione dell'ex tabacchifisio Centola, stravolto rispetto all'impianto originario ed instradato verso la sua realizzazione sul medio termine. Le modifiche prevedono lo stralcio del piano iniziale, che immaginava la costruzione di un nuovo edificio al centro del piazzale Centola, con all'interno un auditorium ed un'aula consigliare, un'opera che dopo un iter piuttosto incerto è stata ritenuta troppo cara per le casse municipali, di cui l'idea di utilizzare l'ala già riqualificata del Centola al fine di completarla dopo i lavori di restauro del 2010 e renderla maggiormente funzionale attraverso la realizzazione di un auditorium capace di ospitare concerti, eventi e spettacoli musicali e di un'aula da adibire a sala consigliare. Costo totale del piano 1.193.000 euro